bella ragazzi a tutti nel commentone veneziano siamo su ww2k15 ma siamo su pc ragazzi ho già fatto una partita per la grafica è diversa per pc domina c'è poco da fare siamo qua in un match così per spiegare siamo a difficoltà leggenda john cena randy horton la grafica fa paura da quanto incredibile e volevo annunciare che finalmente torna ww perché lo aspettavo per pc per ricominciare farò la dalle universo con quel veneziano e con la difficoltà massima che anche con gli indicatori verso l'impossibile quindi saranno universi difficilissima ragazze ne perderò tante probabilmente ma chi se ne frega ecco randy horton ce la fa ma dalla malattia graficamente è più pulito e meno se c'è c'è poco a fare che sia tanti problemi perché ci siamo tanto mi fa girare i coglioni però però il pc è il pc c'è poco da fare c'è veramente ha una grafica devastante quindi ragazzi tornerà la universo solo che io volevo cominciare da subito il problema qual è che i dlc non sono tutti inclusi in fratellità mi manca l'acceleratore e senza l'acceleratore non posso fare la universe perché chiaramente non ho tutti i personaggi aspetto il dlc e parto subito intanto mi faccio con calma il personaggio ma lo voglio fare super super figo e dopo speriamo nelle mod ragazzi perché se le mod madonna se arrivano le mod che dico io diventa ordinariamente un universo infinita comunque in realtà il livello non è leggenda ma è difficile non ho messo leggenda solo una vai john cena vai io io grande io io spettacolo puro dio io vai john cena vai john cena vai che torna veneziano sulla wwe attenzione randy orton maledetto vaffanculo randy bravissimo john cena mi trovo meglio con i controlli 360 però è su 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 wwe aia pensavo di aver già vinto cazzo bravissimo john cena grande john grande john ancora me la parla randy orton maledetto fio della mignot maledetto stronzo eccola la eccola la va a caffa oh finalmente john torna vai che me la faccio adesso bye bye grande john cena one two e si va a vincere ragazzi raga è tornato veneziano la wwe e soprattutto è tornato nella universe appena c'è il dlc parto a bomba non vedo l'ora ragazzi però forse devo togliere la musica perché come sempre mi da problemi di copyright e si questo forse si raga comunque un saluto del comedone veneziano veneziano finalmente è tornato nella wwe che conta ciao 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 ciao